bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video c'è lunedì recap della situazione analisi tecnica analisi ciclica quello che sta succedendo sui mercati ci sono una serie di dubbi importantissimi e soprattutto molto rilevanti perché queste settimane che verranno quella attuale è la prossima saranno importantissime per capire quello che potrà succedere nei prossimi mesi ragazzi perché la posizione ciclica di bitcoin è a un punto di svolta e lo si vede anche dai mercati che si sono fermati a guardarsi intorno non sanno cosa fare avete visto quello che è successo la volatilità si è andata a ridurre perché siamo su livelli importantissimi a guardate un po che cosa è successo la resistenza 11.007 che poi è diventata un po più ampia adesso la vedremo nel grafico di oggi ha tenuto banco e ha tenuto i mercati sotto per tutto questo tempo ma prima di iniziare con questo video andare sui grafici perché voglio subito andare sui grafici oggi ragazzi perché vediamo bitcoin come si fanno a vedere bitcoin vediamo binance e vediamo ethereum perché tutti portano una confluenza ciclica particolare delle cose particolari voglio farveli vedere ma prima di iniziare intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto stiamo crescendo tantissimi dovevo fare il video dei 5.000 iscritti e siamo già a 5.200 quasi 5.300 però farò anche questo video ma oggi volevo anche farvi vedere una cosa guardate che mi è arrivata che mi hanno regalato questa maglia è la prima di due tra le altre cose che c'è un'altra che è bellissima ma questa ragazzi è troppo comica va bene va bene bando alle ciance bando alle cose simpatiche di tanto ci vuole andiamo sui grafici andiamo sui grafici eccoci qui allora quello che vediamo in questo momento il grafico di bitcoin contro dollaro il solito nostro grafico relativo a bitfinex allora intanto ragazzi le informazioni che otteniamo dall'rsi ancora una volta sono identica quella la scorsa settimana quindi non mi ripeto perché l'rsi in questo momento è in una fase neutrale tendenzialmente volto verso l'ipercomprato quindi manterrebbe diciamo questa natura rialzista del trend non ci dà grandi indicazioni non ci sono divergenze in sostanza dice che il trend rimane rialzista ma nel breve un po più tempo insomma quello che alla fine abbiamo visto sul mercato quindi andiamo subito a vedere invece i prezzi che è più importante parlare allora ho fatto delle modifiche al grafico ritengo opportune intanto modificato la resistenza che comunque resta il prezzo che avevamo indicato 11.700 un intorno ragazzi però la vera resistenza sembrerebbe essersi spostata 12.100 quindi il mercato in sostanza avevamo questo indicato insomma in tempo in memory questo tipo di livello che era 11.700 più o meno era qui ragazzi poi il mercato cosa fa ci gira sopra vedete sale poi riscende poi sale e riscende insomma in sostanza la resistenza l'ha leggermente spostata di qualche punto percentuale verso l'altra l'ho detto benissimo modifichiamola anche noi per avere diciamo un'idea generale di resistenza alla fine 12.100 12.000 circa e 11.700 ragazzi non cambia niente soprattutto con la volatilità dei mercati delle criptovalute è la stessa cosa però secondo me era più logica in questo caso indicare questo tipo di resistenza anche perché il mercato nella giornata del 3 luglio nella giornata del 4 luglio ha più volte tentato di rompere questo livello che adesso dopo il minimo del 2 luglio questo qui ragazzi a 9.700 qualcosa è diventata un livello di resistenza importante quindi andiamo per gradi da un punto di vista di analisi tecnica la resistenza è 12.100 in cross daily importantissima per diversi fattori ragazzi perché da un punto di vista ciclico cambierebbe la viuta così a così anche per le prossime settimane quindi è fondamentale ed è anche per questo che il mercato stenta pesantemente a superarla e allo stesso tempo però attenzione ragazzi perché dovrebbe farla in tempi veloci se vuole superare questo livello e se lo fa potrebbe creare il famoso pump classico quello abbiamo visto anche nelle scorse settimane lo vedremo poi con calma da un punto di vista invece di supporto resta valido il supporto a 9.200 ma l'estensione che abbiamo visto qua era 9.700 quindi in realtà potremmo anche alzarlo non mi sento di alzare ancora questo supporto per una serie di motivi però in realtà fra pochissimi giorni ci potrebbe alzare intorno ai 9.500 circa 9.500 il supporto fondamentale in questo caso il bitcoin abbiamo la media mobile 50 periodi che segna più o meno in questa fase qui 9.500 dollari quindi 9.436 quindi insomma confermerebbe anche questa view vi avevo indicato invece passando appunto all'analisi ciclica vi avevo indicato la fase temporanea negativa che è stata questa rispettata la perfezione del mercato poteva ancora estendere questa fase negativa la poteva fare ancora fino insomma avrebbe ancora altri giorni due tre giorni possibili però ragazzi a dire la verità o fa un flash crash e quindi mi sposta tutta questa view oppure del mercato sembrerebbe sembrerebbe aver iniziato un nuovo ciclo sul minimo del 2 luglio in realtà la vera conferma non c'è perché per avere una vera conferma noi dobbiamo salire al di sopra di questa resistenza e questo è il problema di questo momento perché a livello ciclico dovrebbe far così se non arriva qua io la conferma proprio tranquilla di inizio nuovo ciclo non ce l'ho sul 2 luglio e quindi un po' mi vedete titubante su questo da questo punto di vista poi dovremmo vedere ma la fase si sta complicando e non poco lo sapevamo perché vi avevo già accennato che sarebbero stati mesi per trader e non mesi per holders questi qui perché settimane quanto meno magari mesi no ragazzi perché era difficile difficile veramente stare su un mercato che dovete essere bravi anche interpretare io cerco di darvi tutte le info più semplici possibili per aiutare tutti quanti quelli della community training on chiunque veda i video per insomma schiarirsi l'idea che poi è fondamentale questo da un punto di vista ciclico quindi tornando se qui è iniziato un nuovo ciclo bitcoin deve andare sopra questa resistenza ora se nell'arco di pochissimo tempo oggi domani fa un flash crash e va a fare un nuovo minimo allora questa view cioè fa così ragazzi giusto per capirci allora questa view cambia ok ma se già passa oggi ragazzi e passa domani insomma abbiamo una serie poi di dubbi che dovremmo schiarirci nella prossima settimana purtroppo difficile parlare nel canale perché insomma ci vorrebbero veramente dieci video al giorno è possibile da fare allora da un punto di vista ciclico se non supera 12 e 100 la situazione è delicata perché perché se qui è partito questo nuovo ciclo a una sua naturale conclusione verso fine mese di luglio i primi di agosto quindi un classico ciclo mensile io l'ho segnato qui intorno al 2 agosto quindi farei una cosa in questo momento diciamo azzardiamo questa cosa spostiamoci la nostra area di debolezza ciclica per il prossimo ciclo avvenire vi ricordo che questa è un'area temporale e non è un'area di prezzo ok ragazzi questa era l'area di trading range che vedete che ha fatto insomma questa invece un'area temporale questa di prezzo questa no questa è un'area di tempo quindi non di prezzo ragazzi ok quindi la rimetto qui come è già scritto dovrebbe iniziare diciamo questa sua fase di debolezza già a partire dal 17 luglio ragazzi perché questa diciamo è un ciclo particolare può avere una doppia considerazione dal punto di vista di cicli maggiori insomma è estremamente complesso però noi lo semplifichiamo con una volta e diciamo in maniera molto semplice se bitcoin non riesce a superare i 12 e 100 la situazione diventa estremamente pericolosa è possibile che vada in close di questo ciclo quindi più o meno da qua e vada magari a fare una close al di sotto dei precedenti minimi a 9.007 a quel punto di nuovo il supportone a 9 2 diventerebbe assolutamente importante quindi in sostanza la l'atteggiamento potrebbe essere questo qui ragazzi prova non ce la fa prova e poi va a farmi questo ok allora questo potrebbe essere una view quella negativa se non riusciamo ad andare su i 12.100 e ci potrebbe stare quindi state attenti per operazioni molto lunghe non dovrebbe cambiare il trend in generale questa chiusura ciclica anche se fosse diciamo negativa però insomma stiamo un po attenti anche per posizioni di breve chi di voi non ha esperienza da spagna non tiene diciamo non ha i nervi saldi deve stare molto attento al di sopra invece di 12.100 il mercato potrebbe accelerare alla rottura della livello di massimo a 13.008 quello che vedete qui potrebbe farlo assolutamente sì sarebbe meglio lo facesse addirittura quindi se vogliamo vedere una continuazione del trend normale dovremmo avere questo già nella giornata di oggi e domani e poi un tentativo magari di fare un doppio massimo o un massimo un po più altro prima della cross magari di questo pensiero questo sarebbe una più invece migliore tutto sta nel capire se supera questi benedetti 12 e 100 adesso in croso che poi è un allargamento degli 11 7 andiamo invece a vedere terreno prima di biancoi nel tempo stringe come sempre su questi video allora guardiamo e termo a la stessa conformazione un po grafica di bitcoin con un ciclo di natura ternaria i livelli sono sempre uguali 3 30 280 non ve li ripeto sono gli stessi della scorsa settimana il mercato è rimasto dentro anche terreno deve andare a rompere i massimi se vuole avere una view positiva se non lo farà potrebbe stare o in trading range ancora un po fino alla close di questo mensile che io insomma più o meno porterebbe anche qui verso la fine luglio primi di agosto vi ricordate che ho detto che sarebbe stato complicato ok e se non lo fa ragazzi attenzione perché il livello di 280 è molto vicino solitario ma potrebbe tranquillamente romperlo a quel punto nulla vieta che vada a 225 quindi è terreno un po più debole di bitcoin se non passa i 3 30 e non li passa confermandolo in close è una situazione delicata quindi o si sta in barra di congestione o potrebbe addirittura rompere i 280 e attenzione perché poi va giù va giù ragazzi perché c'è insomma ci sono delle fasi abbastanza negative in questo caso quindi attenzione alle altcoin e terreno se le porta dietro è importante comprendere questo tipo di di struttura questo tipo di atteggiamento per capire un po quello che può avvenire un po su tutto il mercato delle altcoin ok quindi 3 30 è una resistenza fondamentale per eterium in questa fase molto molto importante passiamo a bnb bnb ancora una volta stenta a ripartire ancora una volta bnb rispecchia un po i cicli anche di eterium guardate come è similare in sostanza ci sono però due livelli su bnb che in questo momento fanno da a ponte questo ciclo che sembrerebbe iniziato il 2 luglio veramente molto debole ma attenzione ragazzi perché i cicli deboli nella parte iniziale possono riservare belle sorprese nella parte finale insomma chi ha esperienza sui cicli lo sa quindi non pensate che è una partenza debole sia sintomo di debolezza anche in futuro non è questo i cicli non si analizzano così per quello usate l'analisi tecnica ok allora questa fase è questa fase che partita deve fare una cosa deve andare a rompere questo primo livello che è 35 6 e se non lo rompe intanto e diciamo passa il tempo diventa un po segnala negativo anche qui siamo con una costica verso il mese di agosto se tutto viene confermato così come in questa fase è pericolosissima ancora una volta perché abbiamo un massimo qui che nella parte centrale il mercato deve andare qui ragazzi se vogliamo vedere una fase positiva dobbiamo andare a fare un nuovo massimo qui se non supera i 40 dollari più o meno biananza entra anche lui nella stessa condizione di eterium è a quel punto potrebbe potrebbe fare semplicemente questo quindi salire e poi iniziare diciamo una fase di pullback che magari lo potrebbe portare anche su questi livelli di 27 più o meno quindi aver fatto in sostanza un trading range che poi va giù con una pc di correzione vedete molto semplice molto elementare ma anche diciamo non bello da vedere per una serie di motivi scenderemo sotto la media 50 insomma quello che vogliamo vedere se sui questi mercati in questo momento per chi aumenta insomma della fase di risolta dei mercati è la rottura intanto di 35 6 e poi la rottura dei 40 ok prima della cross ciclica il tempo tiranno ancora in questo caso anche su su balance ed è fondamentale che tutto avvenga nei prossimi giorni importantissima quindi la settimana attuale ragazzi questa settimana perché se bitcoin supera i 12 e 100 è fondamentale che lo faccia in questa settimana o al massimo nell'altra perché nell'altra dovevano andare a toccare devono andare a cercare di toccare i massimi precedenti sia finance sia eterium sia bitcoin ok bene ci siamo detti tutto per quanto riguarda il video di oggi ho cercato di chiarirvi al più la situazione ma vi assicuro sono stato ore 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 su questi grafici per chiarirla io stesso prima ragazzi è una situazione complicata è una situazione per traders non è una situazione però alders questa qui perché alders da 4.400 può stare tranquillo sono andate in vacanza a quel punto e controllate solo eventuale chiusure al di sotto magari dei 9.200 dollari per chi invece è un po più su che sta facendo holding da un po più su bisogna stare attenti vi ricordatevi avevo accennato che sopra i 9.200 la situazione sarebbe stata delicata per gli holders e non era il caso di assumere posizioni con leggerezza long se non facevate appunto trading e mi riferivo proprio a questo io sono fiducioso spero che il mercato vada su su un sopra questi 12 100 magari con qualche bello spike rialzista il classico di bitcoin ma non posso che dirvi che guardando i grafici un po il rischio ragazzi che questa fase diventi un po deboluccia c'è c'è e quindi state veramente attenti perché è una fase molto delicata bene ciao a tutti vi ringrazio per questo video e ci rivediamo in settimana con il prossimo scrivetemi comunque nei commetti tutto quello che pensate e quali sono le vostre idee anche su bitcoin c'è un sondaggio che ho fatto domenica mercoledì video la risposta al sondaggio chi ha vinto ciao a tutti video la risposta al sondaggio chi ha vinto qui Grazie.